Allo stand Goman parliamo con il signor Massimo Goglione, presidente dell'azienda specializzata nella realizzazione di arredi bagno specialmente per disabili, ma che punta soprattutto al design. Vogliamo sapere le novità che presenta a questa edizione di SH. Stiamo presentando il nostro prodotto di punta che viene presentato a livello internazionale che è il Flight, che è un lavabo in Corian DuPont, che ha la caratteristica di avere un alto design con già integrato l'inclinazione e il facile avvicinamento, quindi l'utilizzo da parte di persone anziane, persone con ridotta mobilità, ed è questo che vediamo qua sopra. E' praticamente un prodotto rivoluzionario, all'avanguardia, in cui abbiamo avuto diversi riconoscimenti internazionali proprio per il design e questo tipo di prodotto. Diciamo un oggetto quasi da make-up per un bagno particolare. Sì, esattamente, è un prodotto di altissimo design e che quindi non è il tipico prodotto per disabili che quindi viene a caratterizzare i bagni a loro dedicati. Il nostro obiettivo è quello di fare dei bagni sempre più universali, di utilizzo per tutte le persone e che non sia marcatamente dedicato alle persone diversamente abili. Quindi un bagno per tutti esteticamente a livelli di qualità, insomma. Sì, abbiamo visto anche queste barre molto fashion, adattabili a qualsiasi ambiente, colorate, molto vivaci. Sì, sono delle barre in cui cerchiamo la mimesi con la parete, possono essere dipinte nei colori simili appunto della parete e mimetizzarsi e sono ergonomiche, hanno una facilità di utilizzo per tutti e la novità è queste finiture che sono delle sublimazioni, abbiamo dei fetti nuvolati, fetti legno, del noce, della radica piuttosto che e quindi barre che nonostante siano tecnicamente di sicurezza si mimetizzano perfettamente con le pareti.